Bentornati al TG7. Maxi operazione antidroga a fondi. Questa notte gli uomini dell'arma dei carabinieri della tenenza di fondi del comando provinciale di Latina, con il supporto di un elicottero giunto da pratica di mare e con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare frutto di un'inchiesta sul narcotraffico che riguarda anche Terracina, Itri e Formia. L'indagine è partita mesi fa proprio dai carabinieri della tenenza di fondi guidati dal tenente Ivan Mastromanno e proprio fondi è la città al centro dell'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti sgominata questa notte. Nelle prossime edizioni del nostro TG vi forniremo ulteriori dettagli. Intanto vi invitiamo a seguire gli sviluppi sul nostro sito internet tvcanali7.it. E spostiamoci a Itri, dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate e atti persecutori, un 48enne che per anni ha reso la vita della propria ex convivente e di sua madre un vero incubo. L'uomo è stato rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone al 7 aprile 2017 quando avrà luogo l'udienza di fronte al giudice monocratico Giorgia Castriota. I fatti risalgono all'estate 2012. Il 48enne autore di aggressioni fisiche e verbali sarebbe giunto a minacciare le donne di morte qualora avessero deciso di sporgere querela contro di lui. Se vai a denunciare ti faccio uscire dentro una bara da questa casa. Queste le minacce rivolte alle due donne. L'uomo accusato di stalking in uno dei numerosi episodi avrebbe colpito la ex compagna con calci e pugni provocandole lesioni alla testa. Una lunga serie di atti di violenza culminata nella decisione da parte della ex convivente dell'uomo di abbandonare con la figlia minorenne la propria abitazione familiare. Secondo l'accusa le percosse e le minacce perpetrate dal 48enne avrebbe indotto le due vittime ad alterare le proprie abitudini fino a limitare la libertà personale. E torniamo a fondi. Il sindaco Salvatore De Meo e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli informano la cittadinanza che, come da capitolato d'appalto, nella giornata di martedì 1 novembre prossimo, festività di ogni istanti, il servizio di ritiro porta a porta dell'umido non è previsto e pertanto il relativo mastello non deve essere esposto. Sarà possibile in via esclusiva esporre il mastello dell'umido insieme a quello del vetro dalle ore 20 di mercoledì 2 alle ore 5 di giovedì 3 novembre. Si rammenta ai utenti di fare sempre riferimento ai calendari in loro possesso al fine di verificare i giorni e gli orari corretti di conferimento. Chi avesse smarrito i suddetti calendari può consultarli e scaricarli dal sito internet www.differenziatafondi.it E restiamo in argomento e spostiamoci all'enola dove un gruppo di volontari armati, come riportato su Latina Oggi di guanti e sacchi dell'immondizia, si sono adoperati domenica mattina per bonificare la contrada di Passignano. Un gesto autentico e gratuito per diffondere la cultura dell'ambiente e del rispetto della natura. Numerosi i sacchi riempiti dall'immondizia abbandonata dagli incivili, tra i quali Eternit e rifiuti ingombranti, che lo stesso comune di Lenola, collaborando all'iniziativa, si è incaricato di smaltire. E torniamo a parlare della direttiva Bolkestein. Il 17 e il 18 ottobre l'Associazione Imprese Oggi ha formalmente invitato il sindaco di Napoli e di sindaci, gli assessori alle attività produttive delle province di Latina e di Frosinone, affinché non si attivino immediatamente le procedure dei bandi previsti dalla direttiva Bolkestein e dalla delibera dell'Aggiunta regionale Lazio numero 527 del 13 settembre. Le richieste, si legge dal comunicato, sono state avanzate alla luce della iniziativa del Governo, che ha convocato le associazioni realmente rappresentative degli operatori ambulanti in Italia giovedì 3 novembre presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla luce di alcuni rilevi di legittimità sollevati dalla Corte Costituzionale sulle iniziative realizzate dalle regioni e dalle province autonome e dalla luce della nostra iniziativa di proporre ricorso al TAR del Lazio contro la delibera della Regione Lazio, con la quale sono state avviate le procedure dei bandi entro il prossimo dicembre. La convocazione della riunione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di tutte le associazioni promotrici della manifestazione del 28 settembre a Roma è tesa ad affrontare tutte le problematiche che stanno via via emergendo nell'attuazione della direttiva Borchestein. Continuiamo a parlare dell'Ottobre Rosa. Nel corso dell'iniziativa di sabato scorso, il Villaggio Rosa, ai nostri microfoni sono intervenuti anche l'assessore ai servizi sociali Dante Mastromanno e la dottoressa Francaforte. Ascoltiamo. Siamo con l'assessore ai servizi sociali Dante Mastromanno, ennesima iniziativa questo del Villaggio Rosa per la prevenzione nei confronti delle donne. Certo, è una cosa bellissima, io plaudo a questa iniziativa anche in qualità di medico che tutti i giorni stiamo ad avere questi problemi sicuramente importanti soprattutto per le donne. L'unica cosa è che dovreste fare qualche giornata in più perché mi rendo conto che ho visto le liste d'attesa qua sono lunghissime e quindi una giornata penso che non basta, ma in ogni caso a parte questo è l'iniziativa lodevole e quindi sia la Presidente dell'Andos sia tutti quelli che collabono, i colleghi, i medici che stanno dando la propria opera a titolo chiaramente gratuito. Niente, un grosso applauso e niente, continuate così perché è una bella iniziativa e vi fa onore. Grazie. Siamo con la dottoressa Franca Forte, membro del direttivo Andos Fondi, lei è portavoce dei medici che faranno le visite qui in piazza. Qual è lo spirito che anima tutti voi? Beh, lo spirito è uno spirito, come dire, di grossa unione, di grossa fratellanza. Nei colleghi che ho cercato di coinvolgere ho trovato veramente tanto entusiasmo. Per la giornata di oggi siamo in quattro medici a fare le visite senologiche, due medici al mattino, due al pomeriggio, in quanto per le visite senologiche abbiamo stabilito un percorso. La fascia di età che andiamo a comprendere sono le donne dai 20 ai 39 anni. I medici che ringrazio veramente di cuore stamattina, in mattinata, sono la dottoressa Anna Musillo, la dottoressa Francesca Lippa. Al pomeriggio ci sarà il dottor Massimo Diana e ci sarò, ahimè, io, Franca Forte. In questo percorso abbiamo abbinato per le donne cui riterremo di dover far eseguire un'ecografia, quindi un esame di primo livello. In questo percorso siamo affiancati dal dottor Salvatore Forcina. Abbiamo poi, e quindi abbiamo avuto fino ad ora già molte donne che sono state valutate, scrinate. Abbiamo poi l'unità mobile della Comen per le donne di fascia di età 40-49 anni. esse eseguiranno l'ecografia, la mammografia e l'ecografia. Al mattino ci sarà per loro nella valutazione il professore Alessandro Vella, al pomeriggio ci sarà il dottor Emanuele Monti. La giornata di oggi è una giornata molto importante, che vede tutti noi medici e non medici, perché le attività sono anche altre qui nel nostro villaggio, nel villaggio Rosa, perché vogliamo dare una spinta molto forte alle donne. Certo, le donne che stanno afferendo, non tutte, potranno essere valutate, viste. Ce ne sarà qualcuna, di sicuro più di qualcuna, che con rammarico dovrà tornare a casa, perché nella giornata di oggi non sarà possibile fare la valutazione. Però noi vogliamo fortemente che questo tornare a casa le induca alla riflessione ed è questo il messaggio forte che noi vogliamo dare con le giornate come queste in piazza, a che nel ricordarsi di se stesse poi provvedano a fare quegli esami e quei controlli di cui hanno bisogno. Noi Andos puntiamo molto sul discorso della prevenzione e della diagnosi precoce, perché ben sappiamo che solo a questo modo possiamo salvare la vita. E sempre nell'ambito dell'Ottobre Rosa, venerdì 28 ottobre, presso l'Aula Consiliare, alle 20.30, in sintonia con le tante iniziative in corso per celebrare l'Ottobre Rosa, il Comune di Itri propone un momento di riflessione per divulgare l'importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. Per l'occasione verrà proiettato il film Allacciate le cinture di Fersan Ospetek. L'ingresso è gratuito. Passiamo allo sport e precisamente ai campionati di calcio a 5. Partiamo con la Serie A femminile, dove milita la squadra della Visfondi, che ha pareggiato dopo tre vittorie di fila, con la Virtus Ciampino per 3 a 3, gara valevole per la quarta giornata del girone B del campionato di Serie A nazionale, appunto. I gol delle fondane sono stati di Ilaria Palumbo, doppietta, e Arianna Valluzzi. Le rosso-blu sono prime in classifica, imbattute a 10 punti. Giocheranno di nuovo in casa martedì 1 novembre. Per il calcio a 5 maschile nel campionato di Serie B, la Gymnastics Futsal Fondi perde in casa per 3 a 1 contro il Lido di Ostia, mentre la Virtus perde fuori casa con la Brillante Torrino per 7 a 2. Le squadre sono appaiate a 6 punti nel centro classifica. In Serie C1, la Visfondi maschile perde a Cisterna contro i padroni di casa per 6 a 3. Diventa così fondamentale per la classifica la gara di sabato prossimo a Fondi. L'atletico Sperlonga, che milita in Serie C2, vince anche contro il Real Terascina con il punteggio di 4 a 2, rimanendo imbattuta. Questa edizione del TG7 termina qui. Per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci alla nostra mail redazione chiocciola tvcanalesette.it o sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanalesette.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete.